Lei ci sta dicendo che su una strada sta... Pagliacci non ho capito, non ho capito come si sa... Io intervengo in termini di legge... No, lei ci ha chiamato Pagliacci, non ho capito, Pagliacci ci ha chiamato... Siamo Pagliacci, Carrieri? Lei ci ha chiamato Pagliacci, mi scusi Carrieri, ci ha chiamato... No, io mi sono chiamato io Pagliacci... No, 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 lei ci sta dicendo che su una strada sta... Pagliacci non ho capito, non ho capito come si sa... Io intervengo in termini di legge... No, lei ci ha chiamato Pagliacci, non ho capito, Pagliacci ci ha chiamato. Siamo Pagliacci Carrieri. Lei ci ha chiamato Pagliacci, mi scusi Carrieri, ci ha chiamato. No, io mi sono chiamato io Pagliacci. No, 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 lei ci sta dicendo che su una strada sta... Siamo facendo i Pagliacci. Pagliacci non ho capito, non ho capito. Io intervengo in termini di legge. No, lei ci ha chiamato Pagliacci, non ho capito, Pagliacci ci ha chiamato. Siamo Pagliacci Carrieri. Lei ci ha chiamato Pagliacci, mi scusi Carrieri, ci ha chiamato. io mi sono chiamato io no no no